E niente raga, appena finito il bootcamp, non è andata, ti speravo, un pochino ci credevo, un po' mi sentivo che non andava, però insomma sono cose che sono anche al di sopra di noi, di tante persone. Ci si è provata, l'esebizione è andata bene e il percorso mio a X-Factor finisce qui, però chissà cosa succederà in futuro, chi lo sa, vedremo cosa succederà. Comunque è stata un'esperienza incredibile, è stato qualcosa di inimmaginabile, non ho idea ancora bene di cosa sia successo, la risposta del pubblico è stata incredibile e l'importante è quello, la musica parlerà da sé, quindi se la mia musica varrà, arriverò. Se la mia musica non varrà, non arriverò. Comunque è swag, fallire, no? Cioè tipo Vasco Rossi, no? Ultimo a Sanremo, non ultimo, ultimo a Sanremo Vasco Rossi. E quindi cerchiamo di costruirci il più possibile. Si prova e ci si... ci si prova, let's go. No, ci si riesce, no, ci si prova, ci si riesce. Vamonos, ciao X-Factor.